Amici di Cookies, oggi sferifichiamo! Per prima cosa olio di semi in congelatore per almeno un'ora e poi ci prepariamo uno bello caffè Ammazza che macello che ho fatto Intanto un grammo di agar agar è un gelificante naturale che si trova molto facilmente in commercio un cucchiaio di zucchero ora 150 ml di caffè adesso riportiamo il tutto a bollore il bello di questo caviale è che si può fare con qualsiasi liquido ruba in piccolo chimico caviale di caffè sciacquiamo in acqua fredda bellissimo, ora vediamo come usarlo 250 grammi di mascarpone 250 ml di panna 100 grammi di zucchero a velo ma l'avete mai fatta la mousse al mascarpone così veloce? e ora tirami su 3.0 biscotto a cioccolato salato copriamo con la mousse e ora il nostro caviale ragazzi è veramente sorprendente fateci sapere qual è il prossimo trucchetto che volete imparare